Continuiamo a parlare di cultura, precisamente di studio, di università, perché ci sono due scuole di specializzazione toscane tra le prime cento del mondo. Sono due gli Atenei italiani, entrambi toscani tra i primi cento della nuova classifica europea delle migliori 200 università in Europa. Nella ristretta lista dei top 100, secondo la graduatoria della inglese The Times Higher Education, ci sono la scuola normale superiore e la scuola superiore Sant'Anna, tutte e due con serie a Pisa, che si piazzano rispettivamente in cinquantesima e novantesima posizione. Lo rende noto la scuola Sant'Anna, indicando la valutazione periodica delle istituzioni mondiali, con focus dedicati ai vari continenti o a particolari tipologie di università. Sul podio europeo si conferma il triss inglese di Oxford, Cambridge e Imperial College di Londra, ma l'Italia guadagna posizioni e riesce a quotare altre 17 istituzioni tra la centounesima e la duecentesima posizione, indicate per gruppi di 10 senza una posizione secca. Tra queste non spicca l'Università di Firenze, che assieme a quella di Milano Bicocca e di Verona, si piazza tra la posizione 170 e la 180. Le classifiche globali delle università sono numerose, ma quella della rivista inglese Times Higher Education è considerata una delle più attendibili per la severità dei criteri di valutazione, per il fatto che, anche soltanto per essere presa in considerazione, un'università deve aver raggiunto standard già elevati, come almeno mille studenti qualificati, 200 ogni anno, su riviste internazionali ad alto impatto negli ultimi cinque anni.